I cani da ricchi non esistono. La vera ricchezza è come uno lo mantiene e se ne prende cura. Anche perché se un cane è preso da allevamento oppure da un canile, i soldi servono lo stesso. Dato che nessuno li regala né per il veterinario né per il cibo.